Uè, non fare il magazzino muffito! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi arriva finalmente la patch notes. Ho fatto un video prima ma in realtà era relativo al bundle PSYCHO, la collaborazione di Fortnite X Mayhem. Quindi lo abbiamo già visto, lo andate a vedere se non lo avete ancora visto. Arriva nella patch ovviamente la nuova location Pandora. Ragazzi anche lì ne abbiamo ampiamente parlato che va a sostituire il track en oasi. Quindi il bundle Mayhem avremo anche delle sfide collegate che ci daranno due skin per le armi, due spray e uno standardo ma ragazzi nella patch di oggi finalmente arriva la bolla scudo. Questa è una bolla che non scoprirà facilmente. Mettiti a riparo sotto questa cupola invulnerabile tra proiettili esplosivi. Sappiamo che avrà una rarità rara. Si trova nel bottino a terra, nei forzieri, negli airdrop dura 30 secondi. Crea una grande bolla che blocca proiettili ed esplosivi. I giocatori la possono comunque attraversare. Proiettili ed esplosivi possono essere sparati da dentro la bolla ma non possono uscire. L'emettitore della bolla ha 400 punti salute. Distruggerlo disattiva la bolla. Modifica anche per il brutto ragazzi. L'icona del brutto ragazzi. Dov'è? L'icona del brutto da adesso sarà sempre visibile sulla mappa. Quindi molto probabilmente anche quando il brutto è stato già preso una volta. Di nuovo modifiche al brutto ragazzi. Ridotte sappiamo il numero di rocket da 10 a 6. Ridotta del 56% la velocità con il cui il brutto lancia i missili. Non genera più i materiali per il pilota. Nella soluzione rapida del 22 agosto la modalità brutto rendeva troppo difficile colpire i bersagli. Per so il 23 agosto abbiamo ripristinato la portata del danno utilizzata prima del 22. Quindi fa più male ma si può sparare anche da più lontano. Tra l'altro ragazzi hanno aumentato da 3 a 5 secondi il tempo di recupero dello scatto. E hanno ridotto del 33% la velocità dell'accelerazione. Modifica anche per il turbo build. Da adesso c'è un tempo più lungo tra la seconda costruzione e le altre. La prima si piazza in 0,05 millisecondi. La seconda e tutte le successive da 0,15 secondi. Tra l'altro da adesso hanno modificato la variabilità dei tassi di generazione del brutto. Lo sappiamo nella fase 1 abbiamo il 14% di trovarne 0,1,2,3,4,5 o 6. Nella fase 2 della tempesta il 16% di trovarne sempre 0,1,2,3,4 o 5. E nella fase 3 il 25% di trovarne 0,1,2 oppure 3. Nella fenditura rottami finalmente sono stati sistemati i bug. Quindi è tornata in game e in magazzino ragazzi l'inversione tempesta. La pistola tamburo quindi addio alla Tommy Gun. E il fucile di precisione scout tempesta già eliminato. Hanno risolto invece per quanto riguarda i bug un problema che impediva alla fenditura rottami di distruggere il brutto all'impatto. Alcune armi ed oggetti ricevute dai distributori automatici non erano più... Cioè erano diversi da quelle che si vedevano. Quindi hanno fissato anche quello a me non è mai capitato. Il fucile pesante da combattimento non diventa più impreciso per un breve periodo dopo che i giocatori lo equipaggiano dopo aver usato un'altra arma che dà il mirino migliore. Le onde d'urto hanno un effetto sui membri dell'orda, cosa che prima invece non capitava. E per quanto riguarda il gioco invece arriva Pandora. Una nuova zona fenditura Pandora vicino all'oasi di Palmetto che fa parte della collaborazione Fortnite X Chaos. Questa fenditura ricorda il pianeta Pandora e non è soltanto un modello, ha anche le sue stesse regole. Mentre sono nella zona fenditura i giocatori inizieranno a generare scudo 4 secondi dopo gli ultimi danni subiti. E Pandora sarà disponibile fino al 10 settembre. Modifiche anche per quanto riguarda pinnacoli. Hanno aggiunto dei percorsi attraversabili che collegano la città alle colline circostanti. Quindi non è più difficile aggirare le colline. Le modifiche che seguono invece le hanno implementate il 23 agosto. Hanno modificato il tasso di generazione dei forzieri dal 60% al 50%. I contenitori di munizioni dal 72,5% al 62%. La tempesta in movimento. Nelle fasi finali di una partita le zone sicure non si spostano più mentre si restringono. Per quanto riguarda la grafica, migliorati alcuni bug grafici. Risolto un problema dove il braccio del catalizzatore si sovrapponeva ad alcune skin. Salire su un brutto dentro la zona fenditura città di pinnacoli. Non impedisce più al costume del giocatore di tornare al costume in uso. Modifiche anche per l'interfaccia utente. Risolto alcuni problemi dove i giocatori non riuscivano a vedere le sfide al primo accesso durante la stagione 10. E non ci sono più gli errori di arrotondamento negli indicatori di salute. Anche modifiche nei replay. Da adesso hanno la stessa interfaccia dei replay in serve nel server. E dopo che un giocatore viene eliminato in un replay, la telecamera ora segue i suoi compagni o il giocatore che l'ha eliminato. Per quanto riguarda il mobile, i contenuti di gioco verranno ora ottimizzati al primo avvio dopo l'applicazione di una patch su iOS. Hanno attivato per l'iPhone 8 il supporto a 60 fps. Per quanto riguarda la modalità creativa abbiamo tutto il set di costruzione Pandora. Quindi creerete le vostre isole con una nuova mappa addirittura che si chiama Isola Arida. Un canyon a tema desertico con alti picchi e rocce frastagliate. Arriva anche il nuovo dispositivo comunicazione. Nuovi modi per far sapere ai tuoi giocatori cosa sta succedendo. Grazie all'aggiunta del dispositivo altoparlante e del dispositivo messaggio interfaccia. Arriva anche la nuova pistola accensione. Lascia che i tuoi giocatori esplorino i meandri della mappa con la pistola a torcia. Insomma ragazzi un sacco di roba modificata. La pistola a torcia arriva solo in creativa ma molto probabilmente arriverà anche fra poco, spero, sul Battle Royale. Che dire, siamo qua che stiamo aspettando i leaks. Io vi ringrazio per aver guardato questo video. Un bel pollicione in su. Iscrivetevi al canale. Noi siamo in live. Ciao! Noi siamo in live.